Anticipazioni un posto al sole. Trama puntate. Venerdì, 3 settembre 2021. Continua a crescere a dismisura, l'attesa, e la preoccupazione, per le condizioni di salute di Susanna, che purtroppo, non dà cenni di ripresa. La giovane avvocatessa, ce la farà? Per Nico, invece, le cose cominciano a mettersi davvero male. Il giovane legale, è in serio pericolo, quanto la sua ex. Intanto Serena, convinta che ci sia Roberto, dietro l'assunzione di Viviana, decide di affrontarlo, senza peli sulla lingua. Ma non è finita qui, perché la donna, subito dopo aver avuto una pesante discussione con il suocero, viene investita da un'altra notizia, ancor più traumatica e sconvolgente. Samuel, dopo la chiacchierata con Guido, si convince del fatto di essere solo, ed escluso da tutti. E di non avere amici, ma solo conoscenti. Inoltre, teme che la sua datrice di lavoro, Silvia Graziani, sia in procinto di licenziarlo. Ma forse, il giovane, si sbaglia di grosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.